Ingredienti Dosi per 4 persone 350 grammi di pasta formato sedani 200 grammi di pomodori piccoli e maturi 80 grammi di tonno sott'olio 80 grammi di parmigiano poco stagionato Basilico Una cipolla piccola Olio Sale e pepe Preparazione Tagliare a spicchi i pomodori e privarli dei semi Unire il tonno sgocciolato e spezzettato Mettere 3 cucchiai d'olio Il basilico tritato e la cipolla tagliata a fettine sottili Salare Pepare e mescolare Cuocere la pasta al dente Scolarla Unirla al composto di pomodori e tonno Aggiungere il parmigiano a scaglie Mescolare e servire Il piatto è pronto Buon appetito Plan Grazie a tutti